no beh gogoli ruggenti era appunto la satira del festival di sanremo che era imperversante allora come è imperversante oggi insomma solo poi parliamo di sanremo un'altra cosa solo che allora forse le cose erano più comprensibili che non oggi e quindi mi venne l'idea di ricostruire il festival e siccome la caratteristica principale era proprio la raccomandazione di cui cercavano di godere tutti i vari aspiranti al festival e i vari intrallazzi degli agenti dei discografici eccetera allora facemmo un copione mi pare pare con carla visterini facciamo questo questo copione e ci mettiamo a girarlo girammo facciamo degli esterni a sanremo e poi in un altro in un teatro che non era l'ariston ovviamente ma un grande teatro era il sistina che addobbammo tipo ariston e cominciamo a selezionare un po di cantanti come venivano un po no facciamo tanti provini e apparvero personaggi veramente divertenti come quelli che in parte abbiamo messo nel gole ruggenti poi c'era morgana che faceva c'era Pippo Franco che faceva un po la parte del Pippo Baudo diciamo e la morgana che faceva la figlia di era una ragazzina terribile qual era effettivamente anche se poi era dolcissima poi c'era Pamela che faceva la diva con Dovie che faceva il truccatore segretario più isterico della diva insomma fu una una ricostruzione abbastanza vicina all'originale e per questo credo che la gente lo abbia lo abbia gradito l'hanno dato già quando quando lo vedemmo in televisione avremmo subito un bellissimo riscontro e poi via via penso che lo ridiano ogni tanto no 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 no